Al via le riprese del film Senza far rumore del regista salernitano Luca Guardabasso, una pellicola che ha una missione ben definita e dire no alla violenza sulle donne. Il film, tratto dall'omonimo libro dell'autore Michele Ferruccio Tuozzo e ispirato da una storia di violenza realmente accaduta nella provincia di Salerno, si girerà in alcune zone del territorio locale e dai primi giorni del mese di aprile avrà il suo centro nevralgico a Ponte Cagnano, presso una nota masseria della Piana del Sele. La colonna sonora di Senza far rumore del noto cantautore Francesco Baccini, mentre tra i principali protagonisti del cast, attori di spessore come Clayton Norcross, lo storico Thorne Forrester di Beautiful, Anna Rita del Piano e Maurizio Ferrini.